alcune cose ci sono chiare ovviamente altre cose voglio rispondere però non sostenendo una posizione per la quale tutto c'è esattamente chiaro però effettivamente il microbiota quello intestinale in questo caso è in stretta connessione con le funzioni cerebrali è innegabile ammettere che è una pulsione cerebrale quella di aprire il frigo sperando che ci sia una fetta di torta avanzata dalla sera prima dalla festa prima no è il cervello che c'è un richiamo mentale a questo allora in certi termini il microbiota veicola questa informazione cioè può spingere noi abbiamo per esempio dei microbioti intestinali dove i batteri sono capaci di produrre delle molecole che influenzano la percezione della sazietà e quindi non ci spingono tanto a questo meccanismo quindi chiamiamolo compulsivo della ricerca del biscotto della fetta di torta e i microbioti che invece producono delle sostanze che simulano le vie anoressizzanti che sono presenti in ognuno di noi per quanto anoressizzante sembri come dire una chiave di lettura patologica del termine è qualcosa che ci appartiene è il contrario di oressizzante cioè qualcosa che mi fa dire basta non ho più voglia di mangiare allora il microbiota intestinale noi sappiamo che sa produrre sostanze che simulano questi comportamenti che sono fisiologici simulano queste sostanze che viaggiano nel sangue arrivano nel nucleo arcuato del cervello quindi in posizione molto centrale nel cervello e suscitano questa sensazione non ho più voglia di mangiare quindi in questo senso influenzano o meno l'assunzione di cibo